buongiorno allora cominciamo dal da quello che i giornali pubblicano ma che evidentemente sfugge quindi tutto quello che io dirò verrà in qualche modo provato attraverso gli articoli di giornale quindi li mettiamo in fila cominciamo da Bill Gates perché Bill Gates lo sta dicendo da tempo Bill Gates come sapete insieme alla moglie Melinda hanno una fondazione questa foundation è praticamente al posto giusto nel momento giusto è il primo player è il primo grande azionista dell'organizzazione mondiale della sanità quindi una fondazione privata ha un potere negoziale superiore agli stati pensate allora Bill Gates lo scrive lo dice Bill Gates come sarà il mondo post covid meno viaggi tanto smart working e poche amicizie ci sarà sempre un modo per lavorare da casa avremo meno emissioni ma pochi rapporti sociali quindi anche il new green deal lo stanno pensando funzionalmente alla cancellazione dell'economia reale dei rapporti sociali ci stanno costruendo un mondo dove le piattaforme diventeranno più forti degli stati ed è normale che quindi il potere negoziale delle case farmaceutiche è superiore a quello degli stati se pensate che gli stati non riescono a far valere il loro potere nel momento di una negoziazione dei contratti sui vaccini cioè delle dosi dei vaccini perché quando tu compri dei vaccini vuol dire che c'è una negoziazione che c'è una negoziazione in corso e infatti anche l'Huffington Post lo dice gli affari opachi lo so che purtroppo sono a rovescio però gli affari opachi dietro la corsa al vaccino quindi lo sanno bene anche loro che c'è questa opacità c'è questo continuo rimando a dei negoziati di cui non si sa nulla e infatti non si capisce bene perché uno come Crisanti quando dice afferma una cosa di assoluto buon senso viene di fatto menato picchiato con il manganello dei giusti il manganello democratico vaccino sicuro tutti contro Crisanti Locatelli parole irresponsabili ma Crisanti ha soltanto detto non mi posso fidare di un vaccino di cui non so nulla di un vaccino che è nelle mani di case farmaceutiche che stanno soltanto facendo il loro gioco finanziario il loro gioco di drogare le loro valutazioni quindi drogare i bilanci e poi ovviamente i top manager di conseguenza vendono le azioni al massimo della loro valutazione va da sé che se questo è quello che oggi possiamo dire con assoluta certezza non possiamo dire altrettanto rispetto all'efficacia del vaccino perché nessuno sa nessuno ha potuto vedere sono contratti coperti dal segreto e allora come è facilmente intuibile noi assistiamo ad un gioco più grande di noi allora anche Amazon in questa fase si arricchisce quello che le big four, quello che i padroni della rete stanno riuscendo a incassare è incredibilmente sproporzionato rispetto alla perdita di tutto ciò che caratterizza la piccola media impresa italiana che è fatta di piccolo ma di piccolo e di grande qualità ma nel mondo standardizzato che è quello che vuole Bill Gates la qualità è un di più, è un optional, è una specie di riserva indiana e quindi bisogna fermarlo allora in Francia la grande forza dei commercianti che per la prima volta viene recepita dal governo riesce a fermare Amazon Amazon è costretta a ripiegarsi a tornare sui propri passi e dire ok, il Black Friday lo rinviamo di un mese quando almeno un po' più di partita non dico ad armi pari ma un po' più di partita si può giocare in Italia no perché in Italia un governo di damerini e di incapaci non ha la forza contrattuale di dire a nessuno né a Big Pharma né ad Amazon tu il Black Friday lo rinvii altrimenti io inizio a esercitare il mio potere che è innanzitutto un potere fiscale e ti vengo a controllare qualsiasi cosa ti mando quegli ispettori del lavoro che uno stato dove si gioca un po' a ribasso continua a mandare ai piccoli pensando che il cancro, che il pus sia tutto nei piccoli e invece non viene inviato ai grandi, ai grandi colossi e torno al rapporto grandi, piccoli politiche di favore e vado da Patuanelli che è il ministro dello sviluppo economico e che io chiamo giocosamente, scherzosamente Paffuanelli perché Paffutello è paffuto in questa crisi lo vedi che non ci capisce nulla e quindi Paffutello tenta di dire delle cose ma appena ne dice una è smentita dalla verità dei fatti allora ovviamente lo strafatto quotidiano il giornale che ormai è sulla scia del governo Conte cerca di dare manforte a Patuanelli perché il raglio non può essere non può tollerare che adesso Berlusconi ritorna in pista proprio con questo governo che lo strafatto quotidiano il raglio quotidiano ha tanto sponsorizzato e quindi cosa fa? fa dire a Patuanelli la pseudo verità vedete? fatto quotidiano lo strafatto quotidiano Patuanelli norma Mediaset fatta al mese per sentenza europea sarebbe facile dire caro Patuanelli se per quello c'è una sentenza europea che costringe il governo italiano a pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione cosa che come sapete non accade anzi ancora il monte debitorio della pubblica amministrazione è alto e continuiamo ad essere penalizzati in tal senso ma a smentire a smentire il buon Patuanelli ci pensa ci pensa la verità dei fatti e andiamo sulla stampa il governo rassicura Vivendi la salva Mediaset è a tempo quindi Gualtieri ha dovuto telefonare all'amministratore delegato di Vivendi per dire vi prego non fate non fate un esposto alla comunità europea perché comunque poi cercheremo in qualche modo di risolvere questa vicenda quindi loro sanno benissimo che l'Europa una norma del genere non la può smaltire e anzi rischia di trovare in Vivendi l'attore di un esposto di un'azione risarcitoria proprio proprio in Europa quindi non è vero quello che dice Patuanelli ma del resto Patuanelli è quello che ha incontrato Castellucci il braccio destro di Benetton segretamente quindi davanti ai loro militanti dicono noi revocheremo le concessioni a Benetton poi però Patuanelli fa quello che abbiamo saputo grazie alle intercettazioni incontra segretamente Castellucci quando Castellucci è ancora il perno del sistema di Benetton e infatti per questo lo hanno arrestato e agli arresti domiciliari ma vado avanti Patuanelli è quello che mi impedì di abbassare le bollette allora io mi sono ritrovato perché continuano sempre mi continuate sempre a mandare le bollette dicendo le bollette della vergogna qui c'è una piccola azienda che mi ha fatto vedere una fattura arrivata in questo momento in cui chiede i ricalcoli relativi al 2014 e gli chiede un bel po' di soldi gli chiede quasi 650 euro adesso per ricalcoli del 2014 e mi fa vedere no mi mostra questa cosa così come un altro mi mostra una bolletta arrivata il 14 il 14 di novembre di 2005 quasi dove il 38% è componente gas e il 62% sono imposte spese di gestione quindi in questo momento le bollette continuano ad arrivare con l'ingiustizia di fondo e perché perché Patuanelli mi ha impedito di abbassare le bollette perché lui lui e il suo ministero che mi hanno impedito dicendo eh non si può fare e certo quando tu non vuoi fare una cosa non la fai fare e quindi aveva fatto di tutto mettendo insieme la sua cricca di espertini al ministero i cui fallimenti ormai sono sotto gli occhi di tutti quindi a me è stato impedito di abbassarvi le bollette ma perché non gliene frega un tubo semplice perché come disse lo stesso Patuanelli a Renzo Rosso in una intervista televisiva dove anche lì Renzo Rosso le diede al ministro che non sappia più all'angolo come schivare i colpi Patuanelli si lasciò sfuggire il fatto che lui abita al ministero cioè lui non ha una casa a Roma quindi a lui non arrivano le bollette della luce del gas o l'affitto da pagare perché lui vive al ministero quindi il problema della bolletta lui non ce l'ha non ha le bollette della luce del gas ecco perché profondamente può disinteressarsi al problema un altro esempio del fallimento di Patuanelli mercatone 1 purtroppo è arrivata la cessazione dell'attività mercatone 1 ancora una volta è qui cessa l'attività tra le maggiori catene italiane della grande distribuzione da tempo in crisi finanziaria c'è stato l'attività per 1333 lavoratori ci sarà la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi andiamo però a leggere che cosa si dice della gestione commissariale gestita dal Mise prendo il sole 24 ore quindi non è che sto prendendo la verità libero o altro la vicenda insomma andrà avanti davanti alla magistratura chiamata a fare chiarezza sulla colpevolezza di diversi protagonisti di questa triste ma non isolata tenenovela di un grande gruppo italiano sull'orlo del crack che esce dalla procedura fallimentare conciato ancora peggio di come era entrato a causa della cura ministeriale quindi cioè sono riusciti al ministero a fare peggio delle condizioni in cui erano entrati nella cura fallimentare questo è Patuanelli colui che dice che Mediaset non si salva per ragioni politiche ma perché lo chiede l'Europa e invece non è vero del resto Patuanelli è quello che adesso darà soldi ad Arcelor Mittal come ha dato i soldi ad Alitalia anzi proprio su Alitalia e per Alitalia aveva stava cercando di fare l'inciucino con Castellucci va bene quindi a proposito ed è sempre il Mise che autorizza il pagamento alle televisioni locali per trasmettere quindi gli danno i soldi solo se trasmettono gli spot istituzionali sul vaccino Covid e andiamo sull'ultima vicenda di cui vi voglio parlare e che riguarda il recovery plan il recovery plan voi pensate che è sempre colpa di qualcun altro certo la colpa di Orban c'è ma è esattamente quello che vi avevamo detto fin da subito oggi Orban domani saranno i parlamenti dell'Olanda della Svezia cioè di quei parlamenti che già si opposero alla tesura del recovery plan quindi lo sapevamo benissimo che ci sarebbe stato l'ostruzionismo da parte dei parlamenti perché quando devi raccogliere sì dei parlamenti quelle posizioni in fase negoziali è chiaro che diventeranno tali anche nel momento dell'approvazione dei singoli parlamenti quindi siamo siamo alle solite e quindi è purtroppo la conferma per tutti coloro che credono all'Europa che l'Europa non esiste e non potrà esistere ora quando vi chiediamo di riflettere profondamente sul fatto che vi stanno ubriacando di recovery di sure di messa e altro sono tutti strumenti di cui si può fare tranquillamente a meno sono strumenti a leva finanziaria inutili in questa fase il recovery plan da luglio vi dicevano che sarebbero arrivati i soldi e invece i soldi non sono arrivati e infatti non arrivano anche perché il governo italiano non ha i programmi ora vi faccio vedere le tre pagine di Repubblica degli ultimi tre giorni questa è quella di oggi recovery lite tra i ministri vado a prendere la pagina la prima pagina di Repubblica dell'altro ieri recovery strada in salita ma il problema è non solo della Polonia e dell'Ungheria ma anche del fatto che l'Italia non ha i programmi pronti infatti tre giorni fa sempre recovery allarme dell'Unione Europea sul ritardo dell'Italia quindi non ci sono i programmi perché sono incapaci a scriverli ma ve l'avevamo detto fin da subito quando gioivano in televisione arrivano arrivano i soldi e ancora una volta Conte vi imbroglia nelle conferenze stampa dicendo che arrivano i soldi dall'Europa come vedete non è vero non arrivano i soldi dall'Europa allora uno dice ma quindi questi soldi la Lagarde rispondendo ad un'interrogazione dell'eurodeputato Zanni ha dovuto ammettere la verità che è l'unica possibile in questa fase dove vengono obbligate le aziende le imprese il commercio a chiudere le persone a restare in casa non c'è possibilità di scelta ti costringono a chiudere e quindi se tu mi costringi a chiudere tu mi risolvi il problema che hai generato e quindi con quali soldi semplice la Lagarde l'ha dovuto dire però nessuno ne parla guardate l'eurosistema in quanto unico emittente della nostra moneta potrà sempre generare tanta liquidità quanta ne serve cioè la moneta si crea dal nulla se manca è una scelta politica se andate sulla mia pagina e sulla pagina di Talexit troverete il video integrale di quello che lei dice perché è normale che una banca centrale se lo vuole fare può emettere moneta e monetizza questo debito cioè nel momento dell'emissione non ne chiede la restituzione quindi di fatto è una chiamiamola impropriamente una cancellazione ma non c'è la volontà politica perché quando David Sassoli stranamente propose l'Europa deve cancellare i debiti per covid e noi rilanciamo perché soltanto per il covid se tu emetti e crei moneta dal nulla puoi tranquillamente anche oltre la questione del covid ma fai su tutta copri tutta la platea dell'industria del commercio che hai bloccato per una scelta tua di lockdown perché sei stato incapace di gestirlo e quindi chiaramente ti ritrovi ad essere chiuso quindi non c'è nessun'altra soluzione che creare moneta dal nulla ma inondarla quindi praticamente tu devi fare in modo che queste imprese non inutile parlare di uno slittamento degli obblighi fiscali ci deve essere una cancellazione un tasto reset perché le imprese non possono fare impresa il commercio non può stare in piedi perché lo hai obbligato a chiudere la saracinesca e di contro invece dai la possibilità alle grandi piattaforme dell'e-commerce di dare il colpo di grazia quanti di voi hanno le caselle mail riempite da player dell'e-commerce su tutti amazon che vi continua a fare promozioni sui prodotti vi continua ad invogliare a comprare e fanno le pubblicità in televisione perché nel momento in cui c'è una contrazione del mercato pubblicitario solo loro hanno il potere perché hanno i soldi di comprare tutti quegli spazi quindi cosa si può fare è semplice ci deve essere un soggetto erogatore che copre totalmente e illimitatamente il deficit dell'economia reale che è bloccato per una scelta politica questo è l'unica verità dei fatti e allora quando Sassoli ha ha parlato ha lanciato la sua la sua proposta di cancellare il il debito creato dalla dalla banca centrale con l'emissione ecco che subito la sinistra con i 5 stelle ti dice scusate il ministro del tesoro ti dice non è fattibile perché perché Gualtieri come sempre vi sto dicendo da tempo vuole il MES perché lui si è già impegnato sul MES il sul MES il ministro Gualtieri si è già impegnato ecco perché c'è l'ostruzione dei paesi cosiddetti frugali perché sanno benissimo che il ministro dell'economia italiano si era già impegnato a prendere il MES e quindi viene meno la sua parola ecco perché la banca centrale non emette illimitatamente perché ci dobbiamo prendere ciò che il ministro Gualtieri si era impegnato a far caricare sulle spalle degli italiani questa è l'unica verità questa è l'unica verità quindi fatti i fatti sono legati all'emissione di moneta punto soltanto così puoi coprire le falle di questo sistema e quando sei bloccato vi dico di più la provocazione è aumentare la busta paga dei lavoratori non obbligarli all'austerity perché se non stimoliamo il commercio interno se non stimoliamo il mercato interno nessuno riesce a uscire da questa pessima situazione ma come vedete io vi sto soltanto facendo vedere ciò che è dentro i giornali ok quindi tra l'altro anche Fubini l'ha scritto ma Budapest non potrà opporsi a lungo la vera minaccia sono i paesi frugali perché sono loro che sanno che Gualtieri si era impegnato ok basta penso di avervi raccontato forse anche troppo quindi qui mi fermo e niente ah sì ovviamente se manca un soggetto erogatore ufficiale pulito che cosa accade con questo ci salutiamo il covid fa bene solo alle mafie per il 70% hanno più potere perché loro hanno soldi da riciclare questa è l'unica verità e io questa verità ve la dovevo quantomeno mettere a disposizione e poi ovviamente liberi di commentare e liberi di pensare che il nostro progetto di tale exit sia lunare no itale exit è l'unico progetto possibile perché è l'unico progetto che ti permette di dire adesso la nostra banca centrale emette illimitatamente